Ti presentiamo l'aspiratore Livington Prime Every Day, leggero come un palmare e potente come un aspirapolveri di grandi dimensioni, che aiuterà a combattere al meglio lo sporco. È super pratico ed ergonomico, si avvia con una semplice pressione ed è dotato di un motore di ultima generazione e di un design sottile ed elegante, che ti aiuta a eliminare i pasticci in un attimo. La sua struttura leggera ti aiuta a raggiungere anche le zone più difficili. Niente cavi, niente prese! Grazie all'efficace sistema di filtraggio doppio EPA, in acciaio e inossidabile, lascia dietro di sé un ambiente pulito e libero da polvere e sporcizia. Prime Every Day ti aiuta a raccogliere le briciole e divare i pasticci quotidiani senza alcun problema. E una volta riempito, lo puoi svuotare semplicemente premendo un pulsante. Tutte le comodità sono a portata di un unico dispositivo. Chiama per informazioni sullo straordinario Livington Prime Every Day con il suo potente motore ad alta prestazione, l'efficace sistema con doppio filtro e il suo design sottile e leggero. Il set comprende anche la morbida spazzola per le superfici delicate e i tessuti, la comoda bocchetta per fessure e la stazione di ricarica di design salva spazio e ideale per riporre l'intero set. Ma aspetta, non abbiamo finito! In omaggio la speciale bocchetta, lunga e flessibile, per arrivare nei punti più difficili. Non importa quanto in alto, quanto stretta o profonda sia la zona da raggiungere, raggiungerai quei punti che fino a prima sembravano impossibili. Chiama per informazioni sul set completo e super accessoriato all'incredibile prezzo di lancio che vedi in sovraimpressione. Puoi scegliere anche il colore del tuo Livington Prime Every Day. E allora cosa stai aspettando? Chiama per informazioni o visita il sito ultimiarrivi.com